momentari ragazzi sono adesso bentornati in questo nuovo episodio di half life 2 siamo nella parte che odio più in assoluto di half life 2 ma che razza di rumore siamo a ravenhold comunque dovremmo essere più o meno verso la fine comunque ragazze a parte che fa un caldo qua c'è le temperature sono salite tantissimo sono salite tantissimo spettano non dirmi che sono sono quelle cose mezze volute mi devo preoccupare allora a questo è già morto a una nuova zona questa qui e se lo sapevo lo finivo direttamente nello scorso episodio qua proprio in questa zona però vabbè che è sto rumore che si è sentito chi è c'è un corvo mortaci no però che non si sento un cavolo non mi piace però è porca puttana ecco ti pareva muore aspetta allora porca puttana ladra salva qua grazie allora c'è un impiccatto ma ancora lo senti cosa ti prendono per il culo pure qua dentro dai vaffanculo sto cazzo di e muore vaffan allora allora prima di scendere lì c'è l'inghippo lì ovviamente c'è l'inghippo ma qui c'è questo non capisco se è vivo o mo' no questo è vivo è vivo era vivo aspetta non è che salvalo ce la fai? no non c'è no non ce la fa ad entrare qua dentro allora dobbiamo fare il giro dobbiamo entrare per di qua però eh però anche qua c'è un po' di robetta sembrerebbe no qua dietro non c'è no vabbè proviamo ad entrare qua dentro eh no questa porta è chiusa lo sapevo che era vivo sto coso ah ok poi dovrei ritornare anche un po' indietro per recuperare no ti prego no aspetta ma sta di sopra perchè non capisco i suoni se provengono da sopra o da sotto questa è l'unica cosa uuuh cacca individuati per creazione di minore entità però siete morti affan bagno eeeh proviamo aspetta ma non è qui che veramente si deve continuare giscio si per allora di là si continua non sapevo ehm in due si dai aia dopo ritorniamo indietro chi ho è oh qua c'è un po' di vite ci sono vite ci sono ma devo comunque tornare indietro perchè mi devo ricaricare la smg salvalo qua grazie eeeh aspetta posso uscire almeno nemmeno uscire posso no c'è proprio no proprio non puoi non puoi uscire ok allora ritorno un attimo qua perchè ci sono delle altre munizioni se non le ho già prese no le ho già prese ok le ho già prese tutte le munizioni vabbè peccato oh grande eh vabbè non devo sprecare troppo però voglio vedere prima qua che cosa c'è salta ok però qua sicuramente ce ne saranno altre lì ci sono delle io nemmeno so che intelligentone quello che cazzo questo è proprio intelligente è andato sul fuoco da solo ma ci sono degli altri impiccati qua oh e quei ah e quello è il prete tipo il prete pazzo vabbè se mi protegge lui a sto punto ah questo è quello che è accaduto ok neanche sp... io ti odio eh non ci provare ok quindi tipo un massimo ma che è una vita questa? sì ma sono già al massimo questi suoni questi suoni questi suoni hm non c'è altro vero? no sembrerebbe di no qua è bloccato quindi non posso entrare a prescindere che cazzo ah Raven perché l'hanno messo? potevano evitare di metterlo che praticamente questo livello non c'è non proprio uno stile che è che è completamente fuori con testo da quello che è life life originale però vabbè a questo punto potevano farne anche a meno no? allora dov'è qua? vi salvalo eccolo sì ti ho visto da basso hai scatenato un inferno? un uomo come piace a me ecco ho un'arma più adatta per te ne avrai bisogno ah il fucile a pompa presa ora tienilo vicino il mio consiglio è mira alla testa silenzio arrivano non c'è pace alla chiesa vai avanti ci vediamo alla chiesa sei libero figliolo sì però c'è una precisione perca miseria allora da qua ah da lì ok quindi mi devo buttare da lì sti suoni sti suoni sti suoni sti suoni maledetti scusa eh con l'ottone oh ecco ti pareva no no sto coso ancora vivo ti levi dalle palle no qua mi sa che devo proprio scappare chiudi orca puttana guarda lì salvalo subito qua li vedi meno male che non possono oh ma quanto eh lo stavo pure dicendo stai a cagare stai a cagare e dai salvalo eh non ho munizioni non ho niente ma siete degli stronzi guarda quello rimane lì eh mi sa eh però però uno si è buttato de' cos'è quella roba schifosa non te ne affa' un bagno ma cos'è quella roba porca allora te ti sei bloccato dentro che io non posso posso fare tranquillamente te te ti levi dalle palle raffanculo allora è impossibile che sia in morta che puttana attenzione rinvenute delle tossine nel sangue attivata automatizzazione sistema medico somministra la mortina ma se questo fa orco oh mille ore mille ore allora non è che ci sono ho sentito un passo non posso salire allora do solo una controllata un attimo perché perché hanno creato Ravenhold cioè non tanto perché l'hanno creato ma perché lo hanno messo in questo gioco perché non ha proprio niente a che fa senti senti se porco puttana mi fa sprecare pure le munizioni sti cazzo di cosi mi andate a cagare oh hai chiusa pure la porta bene però dai un po' di cosi qua dai salvalo e andiamo e andiamo mi sa che siamo quasi verso la fine eh dai voglio finire Ravenhold il prima possibile perché cadono i barili dal cielo così andate a cagare pure voi che vaffanculo non dovrebbe mancare moltissimo cioè va senti 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 corvi poi ecco ecco sì ma sono solamente dei suoni alla fine oh lì c'è no questi però non sono suoni messi così a ca ecco allora finchè sono questi così normali mi mi va pure bene laggiù no c'è quel coso 1 2 1 2 3 1 2 3 vai che cazzo è mi lanci sti cosi ancora aia non ho attenzione rinvenute delle tossine nel sangue che faccio così per risparmiare ancora vita c'hai aah e no questo c'ha molta vita oh ah questo praticamente ha fatto tutto il giro questo vabbè dai vieni anche tu allora vieni un altro un altro ok uno alla volta mi raccomando eh uno alla volta mi raccomando così vi faccio fuori tutti attiva sto cazzo di coso grazie oh 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 merda si è staccato si è dai ma si è spaccata la cosa in due ma quella cosa c'era prima eppala ok credo di aver capito più o meno come sistemare quei cosi lì di qua cosa c'è ah ma qua forse è ah è una cosa si sbuchi per di la perché qua non c'è assolutamente niente qua puoi salire si e puoi salire qua però qua non è che puoi fare molto vabbè sto valutando un po' l'ambiente cos'è sto casino attena in bagno non è che forse devo scappare oh 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 no porca puttana allora ah di qua via allora si corre via ti dice qualcosa allora aspetta guarda mortaci tua attenzione rinvenute delle tossine nel sangue no non puoi vaffan bagno aspetta però potrai anche per di qua eeeh ma dove ne dovete andare affan un lo guarda questi mi contenono a lanciare il coso allora dammi quella cosa per fa se affan bagno salvalo perchè non riesco a fare una cosa una cosa semplice riesco a fare che cacchio aspetta mi sa che mi è mi è caduta la cosa lì si aspetta ne vai a fa un bagno eeeh dammi questo quella roba cos'è eh è una lattina questa qui è un altro medikit che me lo sparo ok se n'è andato a fa un bagno però qua vedo un altro medikit lì aspetta ce la fai? toglimi sta cosa e dammi quest'altro medikit oh salvalo che se almeno dovesse succedere qualcosa buttamelo qua prendi questo e va a fa un bagno quel coso va a fa un bagno anche quel coso lì ah c'è un ulteriore medikit tra l'altro dove sono? ah e non è morto incredibile a cavolo potevo fare tranquillamente il giro per di qua mannaggia potevo fare ma quest'albero come cacchio è messo? ah è messo un po' così vabbè qua va un po' grazie salvalo salvalo grazie ora io me ne vado me ne vado vabbè quello l'ha incastrato lì c'è lì c'è dell'altro medikit ma ok allora c'è una sorta di funivia ok quindi come faccio lì a non va allora aspetta sì grazie eh grazie mille l'ho ucciso non ci credo non è curva in volo non curva in volo uuuh porca misera e niente e niente e niente e niente qui è bloccato allora fammi qualcosa di un intelligente fai così grazie te ne vai via per favore cosa c'è ah qui è proprio chiuso una aspetta scusami grazie te ne vai chi è? chi è? chi è? no 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 e qua è bloccato qui è bloccato vaffanculo eeeh si 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 c'è un vaffanbagno adesso io questo lo salto faccio così e certo e non fa neanche in tempo a prendermi oppa la oppa la ok quindi ritorniamo qua guarda che ora guarda che casino e devo trovare un modo per oppure basterebbe un un semplice salto guarda eeeh così 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 la fammi sta sedia dalle balle ecco no di qua comunque devo andare uuuu vai 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 orco orco urco vaffanbagno aspetta non è che questo mi rincorre vero carica 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 prende un po' di vita vaffanculo aspetta posso usare questi date a cagare bruciate oh nuovo sì 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 nuovo zona nuova zona nuova zona qua eh sì allora qua si sale e la si scende mannaggia il gelflin ce n'è un altro qua guarda castrato cosa è successo quanta vita c'ho ne ho abbastanza comunque ahhh date a cagare fastidiosi oh allora qua si continua allora aspetta tu te ne vai a cagare ehm proviamo un po' in basso perché sicuramente 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 mannaggia il gelflin acqua te ne vai a fanculo no no sto coso ora capisci perché io io odio raven olm mannaggia che cacchio sono sbucato qua che cacchio no aspetta ma sto tornando indietro no aspetta no non ci sto capendo niente che cacchio di giro sto facendo non capisco ah no aspetta era non capisco boh individuate l'accerazione di l'intensità rilevate fratture di minore entità emergenza morte dell'utente imminente no ma questo ma io qua stavo tornando non ci arriva fino la vero no invece si attenzione eh ma però volendo volendo posso far così ok guarda che arriva guarda che arriva vaffan bagno morto e ce n'era anche un altro solo che devo eh quelli vai vieni qua vieni vabbè e là oh vabbè 55 di vita non è il si al massimo non ho munizioni non c'ho nulla tagliatrice tagliatrice se 80.000 caricamente sto facendo non ci sto capendo più niente aspetta qua qua dobbiamo proseguire per di qua ok adesso però avete avete rotto le balle però oh eh va va tu proprio gi 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 proprio della serie gi gi no questo no vaffan bagno c'è proprio qua ok qua di qua e poi si ripudono ok siamo verso la fine mi ricordo questa è più o meno verso la fine stiamo per andare verso la fine del gioco e si gioco buonanotte magari del livello siamo quasi alla fine del livello qua di ravenull perché c'è questa chiesa qua perché quando raggiungi quella chiesa lì hai finito ravenull qua dove cazzo lì devo andare allora e per forza di qua allora devo andare perché non vedo altre altre vie liberi vaffan doppio colpo di revolver ma forse è qua che devo andare forse non lo so perché non mi ricordo un granché questa zona qua vabbè noi ci proviamo eh cala ti pareva chiuditi dentro salvalo non può sfondare la porta non può sfondare ah non ho più neanche munizioni proprio esaurito proprio tutto di tutto sembrerebbe di sì chi è che picchietta qua oh oh si 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 oh salve finalmente manderò il carro a prenderti fratello il carro pazienza fratello stai attento eh ti pareva ok siamo più o meno verso la fine dai almeno questo dai ecco però senti che arrivano guarda 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 che arrivano mannaggia al Gelflin guarda come si muove il coso lo vedi che si muove oh quanto tempo ci vuole per il carrello dai e dai e dai affam tu hai rotto le balle eh sbrigati ah eccolo il carrello va 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 che roba ma ora fratello salta sul carro ci sono ci sono ci sono ci sono vaffanculo vaffanculo salvalo oh salve si ci incontriamo finalmente eh lode a te per aver evitato le mie trappole il lavoro di un uomo che una volta aveva troppo tempo a disposizione e ora ha solo il tempo di lavorare per la salvezza grazie penso che tu non abbia molta voglia di rimanere a Ravenholm perciò ti mostro la via per le miniere grazie un pastore deve prendersi cura del suo grege specialmente quando diventa indisciplinato ben disciplinato in questa seguimi fratello e cammina con leggerezza questa terra è sacra beh si è visto quanto è è sacra oh finalmente abbiamo un alleato qui fratello si un attimo posso vedere se c'è se c'è qualcosa grazie ok questa è l'ultima sezione allora facciamo pure l'ultima sezione e poi basta e poi basta e poi basta direi che abbiamo fatto fin troppo per oggi per oggi oh perchè c'è un muro invisibile? ah grazie te pareva vabbè ma ci pensa lui adesso guarda no 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 ma morte non ti riserva nulla di peggio ma proprio a me vuole vicino fratello non è che mi dai anche delle cure o qualcosa vero? nel dubbio che sono trappole ste cose? oeeeeee eh mera la testa mera la testa mera la testa bam la luce delle luci sia con te si ma spara lo devo fare tutto io oh aspetta invece di sprecare munizioni guarda potevo fare questa roba fin da subito ma non ci ho pensato troppo vabbè lo facciamo adesso pannaggia bam oh che cacchio non è me che volete ma ha la luce che splende attraverso di me riposa figliolo sto coso maledetto e te ne sta arrivando un altro e te ne sta arrivando un altro me me la porco siiii un po' di vita uuuh 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 punizione al massimo punizione al massimo che cacchio perchè se che cazzo vai ah qui non ci posso nemmen andare non penso male di te ho finito tutto ho finito tutto eeeh siamo un po' nella merda aia 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 affan qua c'è un po' di uuuh 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 uuuuh uuuh mu cystita uuuh non Almeno che così muoiono Ti voglio vedere Dammi delle cure Grazie Ecco Guarda adesso cosa che fa Guarda eh Guarda cosa che fa Fa così adesso E qui ragazzi Finisce Finisce Ravenholm Qua Finisce Ravenholm Qua Finisce Ravenholm Dovremmo aver finito Ravenholm Molto teoricamente Molto teoricamente dovremmo aver finito Ravenholm Quindi sapete cosa Però questi suoni non è che mi convincono molto Ci dobbiamo buttare là dentro ma lo vedremo nel prossimo episodio Mi fermerei qui ragazzi finalmente la parte che odiavo di più finalmente è finita Adesso ritorneremo con i classicissimi livelli di Half Life 2 Quindi ragazzi Direi che per questo episodio di Half Life 2 Direi che è tutto Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale Iscrivetevi se volete venire a ragionare i prossimi episodi di questo gioco Di giochi mettere un bel pollicione in su Se vi è piaciuto l'episodio marcomando la vostra Nei commenti E noi ci risentiamo A un prossimo video